Continua a nevicare, continua a nevicare copiosamente pochi minuti dopo la mezzanotte, ancora una volta in tutto il nostro territorio precipitazione che va avanti anche se al momento la situazione sulle strade è abbastanza tranquilla non ci sono particolari problemi come potete vedere, neve che cade ma strade ancora abbastanza pulite